Un'antica dottrina. Che cos'è il millenarismo? Commento. È un'antica dottrina cristiana, ereditata dalla profetologia ebraica e basata sull'interpretazione letterale di un passo dell'Apocalisse, ventesimo 1-7. Secondo questa credenza, Cristo sarebbe dovuto tornare corporalmente sulla Terra ancora prima del giudizio universale, per regnarvi mille anni e per portare una prima felicità agli eletti. Altro significato assume il millenarismo quando si riferisce alla credenza diffusa in Occidente, alle soglie dell'anno 1000, considerato come termine ultimo dell'esistenza del mondo, forse sorprende come la spiritualità occidentale sia ancora completamente intrisa dalla leggenda. Grazie a tutti.